E' tempo di chiusura di trattative importanti per le due squadre messinesi impegnate nel prossimo campionato di Lega 2. La notizia ufficiale arriva dall'Orlandina Basket che proprio stamattina ha comunicato di aver sottoscritto un contratto biennale con lo statunitense Dominic Arci nell'ultima stagione al Timisoara in Romania. Dopo il nuovo accordo raggiunto la scorsa settimana con Marco Portannese e gli arrivi dell'americano Derek Dwight e del giovane nazionale Under-18 Tommaso Laquintana, la società paladina mette a segno dunque il quarto colpo stagionale assicurandosi un giocatore molto dinamico e di grande atletismo alto due metri ed in grado di ricoprire entrambi i ruoli di ala. Nato nell'87 ad Augusta in Georgia, Arci è cresciuto cestisticamente nel College del South Carolina. Nel 2010-2011 dopo essersi ripreso da un brutto infortunio viene scelto da Justin Toro su una franchigia della NBA D-League, la lega di sviluppo della NBA affilata ai San Antonio Spurs. L'anno seguente arriva in Europa in seguito alla chiamata dei rumeni del Timisoara. In Romania torna a giocare con una certa continuità disputando 40 partite di campionato. Grazie alle sue ottime prestazioni il Timisoara approda alle finali dei play-off in campionato ed Eurobasket.com lo inserisce nel secondo miglior quintetto della Lega Balcanica. Confermato nella stagione scorsa, Arci è autore di un'altra brillante stagione, sia in campionato dove fa registrare 13 punti, 5 rimbalzi, 3 assist e il 35,7 da 3 in 31 minuti e 9 di media, sia in Eurochallenge con 11 punti, 6 rimbalzi e mezzo, 2,2 assist, 1,7 recuperi, una soppata e 2 ed il 36,8% da 3 in 30 minuti e 8 di media. A coronamento della sua stagione da protagonista, la nomina a MVP dell'All-Star Game rumeno, in cui si aggiudica pure la gara di schiacciate. Ancora da ufficializzare, ma praticamente chiuso invece, l'acquisto da parte di Barcellona di André Jerome Collins, playmaker statunitense da molti anni in Europa. Reduce dell'esperienza nella massima serie turca, ha giocato in Italia con Ferrara, Bologna, Pesaro e Caserta.